E' una fine di questo fottuto 2011. Telefonini accesi, accendini accesi, datevi poco. Tutta luce, tutta luce, accendini i telefonini. Ok, quando vuoi fammi. Con augurio veramente che questo 2012 ci possa portare veramente almeno una delle cose che vogliamo e che desideriamo. Un baffanculo nel 2011. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon augurio nel 2011. Auguri! 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 Auguri, auguri assunti! Auguri! Auguri assunti! Auguri, auguri! Vai! Tanto auguri a voi ragazzi! La musica elettronica nel 2012. Grazie! Grazie a Marco Dionigi! Vai! A partire da questo momento la concerto è presentata da Cello Cello Zighi e Fletchino. Gianro Cello Cello Zighi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. fino a questo momento. Radio 105, che più crescano e più vanno avanti. Grazie. Zero gigi, two zero one two, happy you hear to everybody.